Ci saranno di nuovi inquilini o meglio di nuovi inquilini che barcheranno la porta rossa del grande fratello Rippo, si tratta di ben quattro donne, dopo il prolungamento del programma in questione fino a marzo del 2022, nella casa entreranno nuove donne, nuove gioifine, si tratta della fattispecie concreta di Natalica Aldonazzo, Valeria Marini, la bellissima valerina nazionale, Patrizia Pellegrino e ad ultima, ma non per questa di miglior importanza, la superlativa Maria Monset. Per la Monset è un ritorno, come anche per la Marini, se non ero, infatti anche la Marini fece parte di un'edizione del grande fratello Rippo. E diciamo che saranno donne che ovviamente dovranno vedersi protagoniste insieme alle altre di questa nuova avventura, di questa avventura in piena regola e bisognerà capire, barra comprendere come si comporteranno, se ci saranno dei litigi grazie alla presenza di queste quattro donne oppure no e quindi se gli animi si andranno a riportare oppure a rassolenare. Bisogna vedere anche quali saranno le tematiche, le situazioni che si andranno a sviluppare meglio e cercare di comprendere se magari la Cardonazzo, Maria Monset, Valeria Marini e Patrizia Pellegrino andranno magari a scombustolare quelli che sono gli animi all'interno della casa più spiana d'Italia. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Ciao a tutti Ciao a tutti